non mi ricordo più come si fa buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento organizzato da Rete Informatica Lavoro sono Maria Luce Villa, il manager di Performa Group di cui Rete Informatica Lavoro fa parte vi do il benvenuto, mi sentite correttamente? se qualcuno mi scrive in chat mi fa una cortesia ciao Stefano, grazie, intanto ci salutiamo aspettiamo un po' l'ingresso di tutti perché comunque vi siete iscritti in tanti a questo secondo appuntamento per Doccia questa sera come stavo dicendo è il secondo appuntamento dedicato a questo tema ma vi avviso che ce ne sarà un terzo a conclusione della serie cosa vedremo oggi, cosa vedremo nel prossimo webinar in programma il 14 aprile lo chiediamo direttamente al relatore Ugo Vettori sviluppatore web docente che abbiamo il piacere di ritrovare buonasera Ugo e bentornato buonasera Maria Luce, buonasera a tutti, bentrovati bene, perfetto, ho appena accennato che ci sarà anche un terzo webinar un po' collegato a questo di Docker ci puoi fare un riassunto di cosa vedremo oggi, di cosa vedremo nel prossimo, nel terzo e ultimo, grazie allora oggi continueremo ovviamente a approfondire alcuni aspetti di Docker in particolare ci concentreremo sulla possibilità di lavorare con i cosiddetti volumi cioè creare delle partizioni condivise per esempio tra il computer ospite e invece il container in modo da poter salvare in maniera permanente i dati utilizzati dal container e poterseli scambiare o tra più container o tra il container e il computer ospite che ospita container cioè nel mio caso il mio Mac per essere più chiari o un Windows insomma o un'altra macchina Linux poi la prossima volta invece vedremo prossima e ultima per quanto riguarda questo trittico diciamo così vedremo, approfondiremo ancora un altro aspetto di Docker anzi c'è un aspetto complessivo di Docker che riguarda la possibilità di avere più container infatti fino alla volta scorsa e anche oggi lavoreremo su un singolo container alla volta grazie al quale possiamo già comunque realizzare attività importanti c'è anche la possibilità invece di creare più container in modo tale che una rete di container in modo tale che possiamo organizzare può orchestrare le applicazioni ovviamente complesse in modalità avanzata e diciamo questa attività multi container la chiamo così può essere realizzata in due maniere o più container sulla stessa macchina quindi sono un unico computer, uso sempre il mio Mac come riferimento oppure più container distribuite su macchine diverse quindi su un grappo, diciamo così, un cluster di macchine più computer Mac, Windows, non so, oppure Mac non ha importanza insomma un ulteriore passo avanti verso la possibilità di distribuire l'applicazione appunto dislocata su più ospiti che è poi l'approccio, diciamo così che va molto utilizzata da qualche anno relativamente appunto allo sviluppo di applicazioni distribuite su micro servizi quindi su servizi, piccoli servizi specializzati in una determinata attività dislocati dove si vuole quindi su computer diversi, su container appunto diversi e che poi ovviamente insieme, come dire contribuiscono a costruire un'applicazione abbastanza complessa insomma questo è quello che vediamo ok, perfetto, chiarissimo come sempre le regole sono sempre le stesse le domande vi chiedo cortesemente di scrivere solo nella sezione domande e Ugo risponderà solo nella parte finale del webinar come sempre vi anticipo il link del nostro canale YouTube dove troverete la registrazione di questa lezione e di tutte le registrazioni dei webinar precedenti sia di Betori che di altri relatori io vi invito come sempre a guardarli tutti benissimo, dai, lascio la parola a te Ugo buon webinar a tutti ci vediamo grazie grazie a luce a dopo allora intanto sarebbe una buona idea a condividere se ok facciamo così non vediamo a te lo schermo se ne parla più state vedendo la mia condivisione oppure c'è qualche problema no non si vede niente e per quale è il diavolo di motivo? dunque come a fare così condividi una presentazione no tu cosa vuoi condividere Ugo? tutto lo schermo lo schermo ok scusate non l'abbiamo fatto già recentemente perché adesso non me lo sconto condividi lo schermo e poi selezioni la scheda dello schermo ah no lo so è solo che mi dice che non può ok ecco non ecco A vero, fai così. ma ti dà qualche errore o non ti fa fare nulla diciamo che c'è un problema con Chrome vediamo un po' se riusciamo a risolverlo dunque andiamo in privacy il Mac è bello e caro ma poi a volte rompe dunque siamo su registrazione schermo devo uscire un attimo perché devo riavviare Chrome ok ok scusate un attimo abbiate pazienza io intanto nel frattempo sei già tornato e con successo ottimo portate pazienza ma a quanto pare l'ultima versione di Chrome ha avuto qualche problema va bene di privacy sapete che è molto molto precisina su questo aspetto ok possiamo partire grazie della pazienza ok dunque dicevamo già in parte ho introdotto quello che assisto condivido a quello che volevo insomma di cui parleremo facciamo un breve recap ma molto breve su quello che abbiamo visto la volta scorsa docker partita capitolo 1 abbiamo parlato del concetto di containerizzazione cioè dell'approccio modello nello sviluppo di nel rilascio del software guarda un pro abbiamo concluso quindi la panoramica su quello che faremo nei prossimi oggi soprattutto nel prossimo incontro parlando appunto di microservizi e vedete già ritornano abbiamo già parlato appunto nella primissima introduzione a docker della volta scorsa insomma un modo per distribuire in maniera più rapida e leggera applicazioni software utile in generale ma soprattutto molto utile e molto conveniente quando appunto si realizzano applicazioni distribuite come microservizi container quindi diciamo che è una sorta di abbiamo detto che è una sorta la faccio molto breve è una sorta di macchina virtuale ridotta all'osso possiamo usare questo termine cioè che contiene solo gli elementi necessari a far funzionare diciamo così quello che è richiesto dalla nostra applicazione quindi se bisogna se abbiamo bisogno che la nostra applicazione usi un server web tipicamente sulla macchina virtuale cosa si farebbe? si installerebbe intanto la macchina virtuale che già è un bel divertimento poi si aggiungerebbe a questa macchina virtuale si installerebbe un server web e poi dentro all'interno la macchina virtuale si utilizzerebbe il server web per eseguire appunto l'applicazione web in questo esempio con un container tutto ciò appunto si riduce a che cosa? ad avere un container che contiene un server web e basta è necessario ovviamente per far girare il server web il resto quello che serve è viene fornito dalla macchina ospite dal computer che utilizza il container che utilizza Docker nel mio caso il Mac in altri casi la Linux o Windows la macchina host cosiddetto questo porta appunto a porta la portabilità cioè la possibilità di distribuire rapidamente ovunque la stessa applicazione senza dover creare come dire tira su una macchina tira su una macchina virtuale installare eccetera eccetera e poi porta la leggerezza proprio perché come ho detto il container dispone solo dello stretto necessario a eseguire l'applicazione insomma il software che si ha si sta sviluppando saltiamo a cose che abbiamo già visto ecco prossima volta parleremo anche di Kubernetes un modo per appunto gestire più container distribuiti su macchine diverse su questo direi che non è caso di ritornare su questo no abbiamo visto un po' di esempi ecco su questo torniamo adesso per vedere riprendiamo il filo diciamo così di quanto ho visto la volta scorsa relativamente a un Dockerfile ok vediamo quindi la parte 2 come sempre poi questa documentazione la trovate su la troverete distribuita da Performa Group e da rete informatica lavoro quindi parte 2 il ciclo di vita del container una volta scorsa non ci siamo soffermato su questo aspetto che è abbastanza importante noi ovviamente tracceremo una panoramica molto rapida un container può trovarsi in uno dei seguenti stati cioè essere in esecuzione essere in pausa essere stoppato ed essere dead morto significa cancellato insomma dalla macchina ospite la macchina host ci sono varie possibilità di passare a parte il dead ovviamente ci sono vari comandi per passare da uno stato all'altro ovviamente quando noi lanciamo il run facciamo in modo che appunto il container passi in uno stato cosiddetto run di esecuzione abbiamo poi la possibilità di stoppare mettere in pausa o stoppare con comandi appunto omonimi diciamo così pause e stop oppure mandarlo in dead con il comando kill che distrugge il container stesso e poi ci sono opzioni intermedie per esempio il restart che consente di riavviare la volta scorsa anche abbiamo visto che ci sono abbiamo usato alcune opzioni di abbiamo verificato alcune modalità di creazione di container anzi di esecuzione di container anche in questo caso abbiamo dei metodi grazie a quale possiamo decidere la modalità con la quale eseguire il container stesso utilizzare scusate il container stesso uno e lo abbiamo usato la volta scorsa il metodo run che sostanzialmente crea e avvia un container immediatamente diciamo in unica soluzione un'altra opzione è quella di non avviare immediatamente il container ma prima scaricare l'immagine dal quale scaturirà poi il container ricordiamo che una volta scorsa abbiamo sottolineato il fatto che possiamo restando in ambito di lingua concetti noti della programmazione possiamo considerare ogni container un'istanza dell'immagine quindi una copia diciamo così di un'immagine da una stessa immagine possiamo creare container diverse per ovviamente svolgere attività diverse un'altra modalità classica è quella appunto di usare il comando pull per scaricare prima l'immagine e poi successivamente è possibile da questa immagine appunto con il metodo rana chiamare in esecuzione un'istanza dell'immagine stessa cioè un container avremmo visto anche alcuni esempi ma queste sono diverse da quelle che abbiamo visto l'altra scorsa tanto non cambiano granché abbiamo anche anticipato parlato introdotto il concetto di docker file cioè la possibilità di creare file appunto grazie ai quali andiamo a configurare le modalità con la quale vogliamo lanciare in un secondo in qualunque momento il nostro container basandosi ovviamente sempre sull'immagine diciamo in questo modo molto più architettato strutturato e per appunto gestire il container perché appunto ci consente di avere un file in cui descriviamo l'immagine che cosa vogliamo creare da quell'immagine eventualmente se vogliamo già lanciare in esecuzione che so non avevamo visto forse lo strumento della macchina del container per esempio il bash cioè il prompt del linee di comando tipico di Linux questo rende molto più facilmente riproducibile e portabile appunto il container proprio perché leggendo andando a dare l'istruzione sul Dockerfile di come deve essere costruita il container come deve essere eseguito una volta che possiamo tranquillamente spostare il Dockerfile distribuirlo dove ci pare secondo necessità e chiamandolo all'esecuzione realizzarà sempre lo stesso container sempre con le stesse caratteristiche ovviamente un container con le stesse caratteristiche partendo da un'immagine con le stesse caratteristiche eseguendo diciamo così i comandi che avevamo previsto nel Dockerfile ecco entriamo un po' più nel dettaglio Dockerfile sono composti da una serie di comandi il primo è sempre from cioè indica da quale tipo di immagine vogliamo partire per costruire il container ovviamente deve essere sempre la prima istruzione del Dockerfile visto che un container è una copia un'istanza di un'immagine un altro comando importante utilizzato spesso nel termine di Dockerfile è workdir che indica qual è la diretta di lavoro all'interno del container ed è utile per poi da lì lanciare eventualmente ulteriori comandi tipo run command eccetera un altro comando oppure copy per esempio un altro comando importante di Dockerfile ci permette di indicare di chiedere che venga effettuata una copia di un file di un directory di una cartella da computer host per esempio verso appunto il container tipicamente noi avremo andremo a sviluppare il nostro progetto sulla nostra macchina sull'host con le nostre tecnologie banalmente HTML JavaScript CSS o Angular o Java quello che è e poi avremo la necessità di far eseguire il codice sorgente all'interno del container ecco che può essere utile è inevitabile anzi più che utile in questi contesti avere la possibilità di copiare i nostri sorgenti della nostra applicazione con tutti gli assets e quant'altro all'interno appunto del contenitore in modo che li possa eseguire gli altri comandi comuni ovviamente run esegue i comandi all'interno del scritto insieme del Dockerfile e ci sono le varie versioni di comandi run il command o l'entry point ma su questi nel nostro caso tenendo prende che è un materiale abbastanza ampio questo nel nostro caso possiamo sorvolare visto il tempo che viene disposto diciamo che sono vari modi di lanciare di chiedere al content di eseguire i nostri comandi il più comune ed è quello che useremo anche noi è run altre al volo altre caratteristiche sempre informazioni configurazioni che si possono impostare nel Dockerfile sono per esempio le variabili di ambiente la password del database che girerà all'interno del container oppure la radice del sito web insomma tutte variabili appunto dell'ambiente di esecuzione che è possibile anche in questo caso definire all'interno del Dockerfile e ARG è anche una variante diciamo così appunto relativa alla possibilità di inserire degli argomenti relativi alle variabili vedete che ok abbiamo chiuso la panoramica sui principali comandi o per migliore delle istruzioni di configurazione del Dockerfile vedete che abbiamo un ampio ventaglio di opzioni per appunto definire nel dettaglio la configurazione del nostro Dockerfile in modo tale che una volta avviato sia in grado di eseguire tutte le attività che sono state appunto predisposte nel Dockerfile una volta che il Dockerfile è pronto ecco che possiamo cominciare a eseguirlo cioè chiedere che venga tirato su insomma a partire da questa configurazione qui abbiamo appunto una serie di raccolta una serie di comandi principali ne useremo a breve un esempio alcuni ecco qua in questo esempio entriamo finalmente diciamo così in ambito operativo ok in questo esempio molto semplice cosa ho voluto fare creare una semplice applicazione verificare come sia possibile è semplice tra l'altro soprattutto perché possibile lo è ovviamente come sia semplice creare un'applicazione web nel mio caso ho creato un'applicazione web molto basica cioè anzi neanche un'applicazione un sito web molto semplice con due paginucce giusto per per vedere come si può arrivare a ottenere questo risultato partene da un Dockerfile anche questo molto semplice composto sostanzialmente da due righe con due dei comandi che abbiamo visto prima l'inevitabile from grazie a quale possiamo dire in questo caso voglio creare un container a partire dall'immagine http2 httpd scusate versione 2.4 il mitico server web Apache nell'ultima versione la 2.4 col secondo comando copy copiamo la directory locale dell'host nel mio caso si tratta di questa cartella qui che vedete myhtdpsite all'interno di questa directory quella tipica di Apache cioè la cartella htdos che in Apache 2 che in Apache scusate contiene la cartella deputata a contenere i siti ovviamente questo è l'indirizzo locale lost questo dopo lo spazio è l'indirizzo invece del container dove c'è appunto Apache 2 creato dall'immagine in questione ok vediamo il mio progettino è molto semplice io per comitare mi sono messo anche i comandi che abbiamo qui nel slide me lo sono messo qui a volte copiando incollando da un blocco di testo come il mio alle slide magari scappa qualche spazietto o non viene gestito correttamente il mio sito è molto la mia sito web è molto semplice abbiamo un index poi una cartella page con un unico file ma uno vale per mille a questo punto non è il caso di fare chissà quale sito una cartella con delle immagini con delle risorse statiche e poi una cartella con un po' di CSS insomma anzi in questo caso parecchi volendo possiamo anche dargli un'occhiata con Visual Studio Code apriamo un attimino siamo sulla scrivania ma anche CDP ecco vedete questo è l'index niente di che giusto per sottolineare che si tratta di un progettino di un sitino molto semplice fatto con tecnologie standard direttamente in questo caso l'ho realizzato nel mio Visual Studio Code nella mia in una cartella del computer host che adesso ho sul testo la pagina abbiamo detto ce n'è solo una con un minimo di varianti le immagini sono queste qui che poi vedremo eccetera eccetera e CSS questo qui che gestisce un minimo diciamo così di l'aspetto responsive le caratteristiche responsive di questo sitino questa è la struttura e il codice anche del del sito quindi codice qualunque da far eseguire all'interno di un server web che sta nel container ok a questo punto proviamo a ah scusatemi e qui c'è il Docker file quindi riapriamo un attimino si legge meglio da da Visual Studio Code che da dal semplice blocco note anche perché Visual Studio Code ha delle dei plugin utili a Docker Kubernetes eccetera infatti vedete che riconosce il Docker file vi ho detto un file molto semplice un Docker file molto semplice quello che appunto abbiamo indicato qui da dove partire da dove deve essere creata l'immagine l'immagine diciamo così di base e poi appunto la copia tra la cartella in cui abbiamo visto i sorgenti del sitino e invece la cartella di Apache sul container all'interno del container a questo punto possiamo provare a usarlo perché ho preso la slide non si sa riapriamo ok copiamo potreste spero che possiate abbiate la voglia l'interesse di farlo anche voi questo è anche lo scopo di questi slide mettiamoci così andiamo nel apriamo il prompt ingrandiamo un po' e copiamo il nostro codicino ho sbagliato non è questo che devo copiare questo è il Docker file dobbiamo sottenere un aspetto abbiamo già capito e sottolineato più volte che il secondo argomento di copia è dove nel container devo copiare il mio progettino il primo argomento ben detto è in questo caso punto slash indica la cartella radice dove c'è il progetto cioè in questo caso myhttp site quindi per avviare il container in modo tale che venga letto il Docker file e tutto poi segua quanto previsto dal mio esempio e non solo in questo caso dobbiamo spostarci nella cartella che contiene appunto il codice sorgente quindi mi sposto nella cartella sul desktop ora sono dentro la cartella del mio progettino ora ha senso usare punto slash stiamo dicendo parti della cartella attuale in cui lancerò il comando e in quello successivo e da lì fai una copia di tutto quello che c'è nella cartella radice cioè di tutto quello che c'è in myhttp site mi copierai anche il Docker file e anche questi ma non importa in questo contesto dove li copierai nell'hdocs nella cartella tipica di Apache usiamo questo comando appunto per chiedere che il Docker file venga avviato secondo le nostre caratteristiche secondo la sua configurazione allora website vediamo se non mi è cancellato qualcosa no image speriamo che non ci siano infatti invece ci sono allora prendiamo da qui puoi dopo zoomare un po' questo quello nero questo un po' tutto se riesci ok grazie ok grazie allora dicevamo sono nella radice appunto del del mio progetto docker build my website gli do un nome al mio progettino e poi e poi io ho anche un identificativo in questo caso con una data ma insomma si può non è quello punto devo lanciare anche docker scusate su mac su windows bisogna prima lanciare docker desktop e poi si può lanciare cominciare a eseguire i comandi ok dovremmo esserci eccolo qui qui ci sono già cose che abbiamo visto la volta scorsa del container qualcosa che vedremo la prossima volta ho già cominciato a imbastirlo ok finalmente tutto funziona come come previsto dunque ha fatto le sue attività ha trasferito copiato eccetera eccetera insomma in base alle configurazioni che avevamo inserito nel file docker file ecco che è stato tirato su diciamo così un container con le caratteristiche specificate a partire dall'immagine specificata andiamo a vedere se ciò è vero intanto l'immagine eccola qui è stata creata my website image proprio con il nome che gli abbiamo dato e in più è stata creata anche l'immagine è stata scaricata ovviamente abbiamo visto la volta scorsa che quando proviamo ad utilizzare un'immagine la prima cosa che fa docker è verificare se abbiamo già scaricato precedentemente l'immagine nel cosiddetto repository locale se non la trovo nel repository locale cioè sul computer la cerca nel lab di docker quindi su un repository remoto e quindi in quel caso la scarica nel mio caso c'è già quindi non abbiamo letto nessuna informazione rispetto al fatto che appunto ha dovuto scaricarla e il tutto è venuto in maniera molto più più rapida quindi le nostre due immagini ci sono l'httpd apaci e nel nostro sito qui abbiamo il container a questo punto dobbiamo solo anzi non abbiamo ancora il container dobbiamo lanciare il container con questo secondo comando che è questo di cui non mi fido a questo punto non lo copio direttamente da qui c'è purtroppo ha dei problemi questo editor che mi perde di aggiungere degli spazi non richiesti ok qui stiamo chiedendo di vedete il comando run vediamo il comando nella slide analizziamolo un po' ingrandiamo ok il comando che sto lanciando è questo ovviamente docker esegui sto dicendo esegui il container al quale ho dato il nome del comando precedente costruisce l'immagine con il nome mywebsiteimage vedete crea un container al quale do il nome banalmente mywebsitecontainer a partire dall'immagine mywebsiteimage che ho creato poco fa al quale ho anche aggiunto un identificatore diciamo così un po' più preciso qui manca il 5 tra l'altro complimenti insomma questo ok qui il 5 c'è fantastico proviamo quindi a eseguire ah un'altra cosa importante che dobbiamo sottolineare è questo punto qui cioè quest'opzione stiamo dicendo sostanzialmente che cosa noi vorremmo nel nostro esempio vedere il sito in esecuzione su un come dire sulla sulla versione apaci presente sull'host cioè in questo caso sul mac mentre noi la stiamo in realtà pubblicando all'interno del server web apaci nel container questo ci permette di quindi non potremo vederlo se volessimo vederlo dovremmo avere la macchina virtuale completa quindi in questo modo noi cosa facciamo possiamo chiedere effettuare un mapping cioè un abbinamento tra la porta 8080 la classica porta 80 del di apaci quello delle chiamate http sulle quali vengono servite normalmente appunto i siti con la porta 80 dell'ospite cioè dell'host della macchina macchina in questo caso in questo modo saremo in grado di vedere l'esecuzione che avviene sull'apaci del container anche all'interno direttamente al nostro computer ok non mi dà errori quindi mi dà anche un hash di conferma che tutto è andato bene a questo punto possiamo andare in localhost 80 e vedere il nostro sitino anzi basta localhost perché tanto è la porta di default ed eccolo qua dicevano niente di che un semplice due paginucce incroce l'importante appunto che sia un sito poi che carichi le risorse statiche e che sia in grado di far funzionare un menu di navigazione tutto il resto diciamo così non ha è solo diciamo una differenza di tipo quantitativo rispetta anche i canoni diciamo così i minimi canoni di responsività come vedete come vedete in qualunque momento è possibile d'ora in poi in questo caso riprodurre portare insomma il mio sito più complesso di questo ovviamente ma con un semplice docker file di due righine e con un paio di comandi appunto da prompt che costruiscono e avviano il nostro container e ci permette di lavorare tranquillamente sul nostro progetto ovviamente possiamo poi in seguito fare modifiche sui sorgenti e riavviare il container l'abbinamento tra la cartella radice del progetto e o sul desktop in questo caso e la cartella http doc che c'è sul server apache all'interno del container è definita una volta per tutte dal docker file all'interno della configurazione del docker file ogni volta che farò degli aggiornamenti potrò riaggiornare e verificare insomma che anche che tutto funziona correttamente oltretutto diciamo questo è molto semplice anche da portare su altre macchine voi stessi spero potrete se volete voi intendo spero potrete realizzare qualche vostro esempio appunto di questo tipo inserire banalmente all'interno del progetto il docker file questo mi serve a me per evitare incomprensioni con le slide e avreste esattamente lo stesso risultato ma ovviamente con il vostro con la vostra versione del sito trasportabile ovunque in qualunque macchina potrete portarvi dietro diciamo così o consegnare il docker file con i sorgenti della cartella all'interno della cartella e tirare su in dieci minuti quanto è che ci abbiamo messo a parte l'avvio di docker e qualche problema copia e colla con le slide ci abbiamo messo veramente pochissimi ok e questo abbiamo approfondito un po' il concetto di docker file fatemi mettere in bolla qui ok ah beh questi sono altri comandi che noi una volta poi avviato il container l'avevamo già visto la volta scorsa possiamo stopparlo una volta stoppato possiamo rimuoverlo è una mostra una volta rimosso il container possiamo anche se serve rimuovere l'immagine in questo caso sempre quella che abbiamo creato quindi questo è i comandi per poi cancellare tutto nel mio caso questo è un esempio molto molto semplice che non ha senso che rimanga in vita per i nostri scopi e questo è il primo argomento il secondo argomento quello di cui parliamo oggi sono i volumi cioè avevo anticipato la possibilità di creare ancora una fare in modo che i dati possono essere salvati in maniera persistente su quelli che appunto vengono chiamati i volumi questo perché i dati possibili per esempio in alcune occasioni necessarie o utili o semplicemente si vuole cancellare il container se i dati sono nel container cancellando i dati magari salvati diciamo così anche dei semplici file in nostra casa faremo appunto di esempio con dei semplici file di testo possono essere anche documenti molto più importanti nel momento in cui noi salviamo dei dati nel container finché il container è sulla macchina che usa attivo o meno in fase running o meno cambia poco l'importante è che il container sia qui ogni volta che lo abbiamo conterrà in cima alla lista dei livelli dei livelli il livello scrivibile sul quale abbiamo appunto salvato i nostri file cancellando il container però si perde tutto anche il livello del container che contiene appunto i nostri file questo in alcune occasioni non è preferibile diciamo così e quindi è possibile appunto creare i cosiddetti volumi di docker in modo tale appunto da poter comunque salvare i dati sul computer host in primis e eventualmente anche tra più container condividere anche i dati tra più container il volume diciamo così da un punto di vista tecnico pratico è sostanzialmente volume docker intendo è simile a un volume così come viene identificato da un computer qualunque quando inseriamo una chiavetta usb quando lo facciamo stiamo dicendo computer al sistema guarda c'è una nuova porta diciamo così anzi a quella porta la porta usb c'è un nuovo volume spesso troverete questo termine da parte del sistema operativo c'è un nuovo volume in cui è possibile immagazzinare o da cui è possibile leggere o copiare dati questo è il concetto di volume anche in ambito docker docker ci permette di fare questa attività in due modalità ovviamente con differenze una è quella di creare effettivamente nuovi volumi nel container l'altra è quella di effettuare il cosiddetto montaggio quando inseriamo una chiavetta usb nel computer il volume chiavetta usb viene tecnicamente si dice montato nel sistema operativo della macchina che ospita la chiavetta e quindi l'altra opzione è quella cosiddetta montaggio e abbinamento di montaggio la differenza in breve è che un volume è una directory quindi la premazione all'interno dell'immagine mentre diciamo così la versione mount bind consente di creare una cartella sulla macchina host che condivide i propri dati con il container un'altra differenza importante è che insomma il volume ovviamente essendo uno spazio dedicato a container dati all'interno del container è gestito dal container mentre il bind mount è gestito soprattutto è una chiavetta USB che si innesta dal computer host diciamo così verso il container e quindi si basa sulle caratteristiche ovviamente del file system della macchina host ma è molto più performante in genere dei volumi salvati dentro il docker questo per una serie di motivi inerenti alla modalità volume che riguardano il fatto che il container deve poi gestire in maniera un po' articolata con un buon utilizzo di risorse e appunto la gestione di volumi aggiuntivi ma questi sono dettagli tecnici che vantaggi nell'utilizzare a prescindere dalla modalità scelta i volumi ovviamente consentono la condivisione di dati tra più container aiutano come abbiamo detto a disoccupiare l'host dal container in modo da non perdere dati se non si vuole che appunto avere un modo di conservare i dati anche sulla macchina host o su un provider o su un cloud sostanzialmente e ovviamente consentono di eseguire il backup e di ripartire insomma avendo un backup in mano è possibile ripristinare e realizzare la migrazione di dati tra un docker tra un host docker tra una macchina ospite di docker a un'altra macchina ospite dunque questo non lo vediamo vediamo altri aspetti ecco tutto quanto abbiamo detto finora sui volumi concettualmente rimane ma operativamente c'è c'è da sostenere che appunto dal punto di vista operativo pratico ci sono delle lievi differenze tra l'utilizzo dei volumi su Linux che è l'ambiente come dire ideale privilegiato su cui lavora docker e invece macchine non linux quindi windows e mac sostanzialmente da questo punto di vista ci sono lievi differenze perché mentre il docker che gira su Linux gira nel suo ambiente nativo e quindi dialoga in maniera diretta e con un linguaggio analogo diciamo così con quello di Linux ovviamente docker è nato in Linux far girare docker su mac e win come avete visto già prima comporta una serie di differenze per esempio devo lanciare per forza docker destro ma nel caso in questione che cosa succede? succede che su mac e win e lin e windows docker gira in realtà su una macchina virtuale di docker del container di docker stesso e quindi non è in grado di vedere direttamente con lo stesso linguaggio con la stessa sintassi di navigazione nei path del file system che ha sul computer invece Linux in questi casi si può per esempio utilizzare un software aggiuntivo che è tematic che è fornito con un toolbox di docker che sostanzialmente fornisce un prompt grazie al quale possiamo lavorare come se simula diciamo così in windows o in mac di lavorare su un prompt Linux un'altra opzione è quella invece di usare un approccio diverso cioè possiamo e quello che faremo noi proveremo a creare su un volume sul mio computer sul desktop della macchina host in modo tale che sia in grado di comunicare con un volume invece sul container in modo appunto da poter avere questa condivisione di dati tra volume host e volume del container è utile appunto a avere comunque diciamo così una copia anche sul computer host una volta che distruggo il container ho comunque le mie copie in questo caso su una cartella nel destro o dove ho deciso di salvare vediamo un po' questo comando che appunto usa questa sintassi che cosa fa converte sostanzialmente gli slash dei percorsi Mac e Windows in backslash e viceversa per invece per il mondo Windows io qui ho usato il termine C users che tra l'altro è l'unica cartella dove in Windows dove è possibile effettivamente montare diciamo così di default senza macchinare troppo con configurazioni varie appunto questi volumi di condivisione come il container dunque vediamo un po' che cosa usiamo questa opzione qui allora io ho creato questa cartella che è chiamato MyMac Volume giusto per ed è anche questa sul desktop on file vediamo poi ne creeremo un altro ciao da Mac probabilmente non si legge un gran video non può fare di testo che certifica che siamo su Mac questo non ci serve più e qui ho al solito il mio file con i comandi come dire per evitare ma non dovrei avere problemi in questo caso per evitare problemi con appunto il copia ancora dalle slide è lo stesso comando sostanzialmente di nuovo lanciamo un container nella modalità interattiva lista per interattiva lista ci fornisce un prompt dove digitare appunto i comandi qui usiamo la sintesi simile a quella di prima indichiamo il volume in questo caso il volume è locale dell'host user admin desktop ma il Mac volume è lui sono sul desktop prima di passare adesso devo passare da user e poi il nome dove di user due punti dove copiare sul container la stessa abbinare sul container lo stesso volume in questo caso dopo due punti quindi nella cartella arbitrariamente abbiamo scelto opt è una cartella di Linux dove appunto sta per optional dove si mettono tipicamente documenti file che non sono che appunto sono opzionali non incidono sul funzionamento del sistema operativo potremmo mettere ovunque ovviamente e poi all'interno di questa cartella creeremo una sottocartella mylinuxdir proprio per mettere in evidenza dove si trova la copia Linux dove si trova il volume Linux container e dove si trova il volume del Mac e useremo come sistema operativo hospit scusate come sistema operativo su cui gira il container Ubuntu una classica distribuzione una nota distribuzione di Linux ok come dicevo io li prendo da qui per evitare perdite di tempo tanto lo stesso comando tale e quale questo lo possiamo chiudere ok andiamo a bloccare questo lo blocchiamo perché tanto non serve a niente l'abbiamo visto poi questo era quella la volta scorsa andiamo a vedere le immagini immagini non ci sono volumi qua ci sono già dei volumi che vedremo la prossima volta ora qui si creerà un nuovo volume se tutto va bene si creerà un nuovo volume appunto quello che stiamo cercando di creare in modo da poter scambiare diciamo così o condividere dati tra lost sul desktop e il container stesso andiamo a lanciare il nostro comando ad hoc avanti qui non ci sono particolari problemi vediamo se ok è andato tutto bene siamo siamo già dentro la cartella siamo già dentro Ubuntu del container ovviamente qui vedete mi ha generato il solito container come dire random con un nome random scusate sempre Ubuntu se non gli diamo il nome specifico glielo da lui ricordate con un nome di un aggettivo diciamo così o un avverbio e un nome di qualche personaggio più o meno famoso ora noi siamo praticamente nella cartella radice di Ubuntu vediamo che cosa c'è dentro facciamo il classico ls una lista quello che in windows è il dir una lista di quello che c'è e vedete che c'è una serie di cartelle noi abbiamo salvato tutto nella cartella opt abbiamo creato un volume connesso al nostro nella cartella opt ls c'è la cartella mylinuxdir infatti nella cartella opt abbiamo creato la nostra sottocartella mylinuxdir andiamoci dentro vediamo che cosa c'è dentro il mio file ci sono i miei due file myvolumecommandtxt e myfiletxt questi andiamo a leggere che cosa c'è in myfiletxt l'ho fatto apposta quindi andiamo a usare un comando cat mycat è un software di comando di linux usato per scrivere e leggere il file cat my file punto txt da mecc fantastico e lui ora proviamo a fare un'operazione inversa cioè scriviamo modifichiamo questo file all'interno del container e vediamo se c'è questa connessione tra i due quindi usiamo sempre il comando file ma con l'opzione di scrittura quindi cat l'opzione di scrittura è questa maggiore di nome del file myfiletxt ok adesso posso scrivere scriviamo ciao dal container o dal linux non ha pura importanza spero si lega abbastanza bene se non grundisco ancora un po' premiamo invio e salviamo andiamo a vedere che cosa c'è nel mac volumes myfile ciò dal container eccolo qui vedete anche in questo caso una volta imbastito il tutto si crea appunto molto facilmente la possibilità di elaborare appunto di creare questi volumi condilisi tra macchina ospite e container stesso e avete visto che a due sensi di dialogo posso sia scrivere cambiare il file nel mac nell'ospite diciamo così a livello di host sia cambiare o creare ovviamente proviamo a creare un altro file da qui siamo sempre cat ma chiamiamolo myfile2 così scriviamo un file nuovo ok scriviamo di nuovo ciao da dove siamo da linux cambiare un po' da linux da ubuntu da ubuntu mifile2 ciao da ubuntu myfile1 c'era già e quindi abbiamo già visto che c'è la possibilità era già presente nella cartella prima ancora di creare la connessione tra volumi ok è poi possibile ovviamente noi stiamo vedendo solo le opzioni iniziali le più basiche e anche quelle più comuni ovviamente ci sono poi tutta una serie di opzioni che noi non abbiamo naturalmente il modo di approfondire nei webinar ma quindi le azioni le attività base le possibilità base concettualmente sono queste in questo io avevo anche creato un esempio in cui creare invece un volume condiviso tra due container invece che tra un container e la macchina ospite magari lo vediamo la prossima volta visto che insomma abbiamo già sforato sì lo vediamo la prossima volta oggi ci dedichiamo alle domande anche se no andiamo avanti fino alle 8 ok mi fermo qui la prossima volta quindi riprendiamo un attimino il concetto di volume lo chiudiamo vedendo anche questo esempio cioè due container che si scambiano dei volumi per condividere i dati è un'altra ovviamente un'altra possibilità che già ci avvicina un po' a quello che vedremo soprattutto la prossima volta cioè più container che lavorano insieme ok allora questo è rimasto in piedi vediamo le domande sì dunque smetto di condividere così per la privacy allora te lo elimino io se vuoi sì grazie molto gentile ok dunque questa è la chat io invece voglio le domande va in domande in fondo perché non vedo le domande vedo solo la chat è sotto che tonto ok grazie allora partiamo dal quante dal basso Giovanni dal basso vabbè o Alexandra ha già risposto ma ha già risposto tu come sempre sì allora quando trovo più applicazioni da per insieme puoi leggerla bene perché non so se gli altri comunque leggono grazie sto leggendo velocemente perché ridurre i tempi dunque tanto la leggo sotto voce per capire il senso allora quando trovo più applicazione e database in senso ormai cosa fare si appende sotto la prima applicazione più di b la seconda applicazione più di b vedo che allora vedo che parli di di compose cioè nella modalità in cui parleremo una volta successiva la prossima volta appunto per comporre diciamo così applicazioni complesse composte appunto da quelli che in questo contesto vengono chiamati appunto i servizi docker quindi lo vedremo la prossima volta altrimenti passiamo un quarto d'ora a parlarne ti invito quindi Giovanni a vederci la prossima volta in modo da appunto approfondire anche questo aspetto poi ah è sempre Giovanni tre domande infatti la terza domanda cita il fatto che usa Docker Composer ne parleremo la prossima volta poi Massimo domande scusa Massimo come voi sapete più volte io ho 12 ore al giorno per lavorare e già non mi basta una volta e cerco di concentrarmi su gli argomenti sulle tecnologie che mi permettono di appunto lavorare 12 ore al giorno e non di più diciamo al massimo e ovviamente mi perdo tante tante alternative tante tecnologie alternative o competitive diciamo competitor rispetto alle tecnologie che conosco perché io punto le tecnologie come dire mainstream quelle che vanno per la maggiore mi sembra anche abbastanza comprensibile dal punto di vista lavorativo e quindi in genere non ho tempo per conoscere altre tecnologie che non sono direttamente connesse alla mia attività o insomma o al contorno della mia attività quindi Massimo su Milantis non so di ottimale perdonami ma poi Andrea tutte le volte che salvi con l'IDE devi lanciare copy beh dipende da quello che fai all'interno dell'IDE se devi eseguire che so se devi compilare il codice un codice Java un codice di programmazione oppure se devi semplicemente aggiornare una pagina una risorsa statica dipende sempre dal contesto io c'è una domanda una risposta univoca c'è una sintassi anche per HTTPS certo sì è ovvio che su Linux ovviamente in quel caso bisogna impostare Apache all'interno del container in modo tale che non è di default impostato in modo tale a prescindere che sia su container o no Apache è impostato come HTTP come protocollo di default ma è ovviamente possibile andare a configurare Apache stessa in modo tale con qualunque altro server web ovviamente in modo tale che sia anche in grado di gestire le chiamate HTTPS quindi una volta nel container come se fossimo diciamo così da questo punto di vista su una macchina host quello che dobbiamo fare su una macchina host cioè in questo caso configurare Apache in modo che sia in grado di rispondere anche alle chiamate HTTPS che dobbiamo fare anche nel container anche qui domanda è vero che l'applicazione industriale è la migliore visto come container Red preferire ad altro Debian Edge non lo so Debian sicuramente è una delle non solo è una delle distribuzioni Linux più quotate ma è molto utilizzata in ambito Docker poi sul sull'addistro rel francamente come dicevo anche prima a Massimo forse a un altro Massimo no sempre lo stesso Massimo Massimo cominciò da te appunto sono tecnologie sono appunto magari mi perdo come dire delle tecnologie o delle soluzioni più performanti ma che poi sul mercato magari sono poco utilizzate io non le seguo poi l'ultima domanda io sto utilizzando Docker solo in ambito locale consiglio di utilizzare in produzione o conviene per progetti medio piccoli andare ancora sul caro vecchio stack lamp configurato a mano sul WPS dipende cioè bonus genuinamente nel senso dipende veramente da tante cose intanto se non è una necessità a quel punto è una tua scelta se è una necessità ovviamente non c'è nulla da fare se non è una necessità come mi sembra essere il tuo grado dipende magari da una scelta tua dal fatto anche se ovviamente tu sviluppi in ambito locale ma poi da qualche parte ripubblichi queste applicazioni immagino quindi poi il locale diventerà remoto presumo a meno che tu non lavori direttamente su un server web se stai lavorando in ambito web su un server web che di cui sei proprietario tu o la tua azienda insomma la tua attività lavorativa a quel punto avete il server che è fatto in casa diciamo così che gira in casa che avrà una linea dedicata per per essere presente su internet e a quel punto diciamo lo sviluppo locale rimane locale in un senso e a parte poi appunto tutte queste possibilità direi che se comprendo la tua domanda diciamo così progetti medio piccoli se non hai proprio la necessità di usare Docker puoi tranquillamente restare con un classico stack lamp se invece come dire non ci sono questo almeno dal mio punto di vista se tu avvisi che non ci sono sostanziali differenze dal punto di vista della velocizzazione dello sviluppo degli aggiornamenti della distribuzione dell'applicazione se farlo su locale con lo stack lamp o farlo con Docker ti portano via diciamo così ti richiede la stessa quantità di lavoro a quel punto la tua potrebbe diventare una scelta come dire di crescita decido l'ho fatto per n anni su lamp ora voglio sfidare mi su Docker voglio provare a farlo su Docker e a crescere diciamo così acquisire una nuova competenza anche in quest'ambito e quindi come dire sebbene non sia costretto farlo per motivi tecnologici che diciamo così sottostati lo voglio fare per motivi appunto di crescita professionale e quindi quello appunto diventa una tua scelta come dire basata su tue considerazioni non vedo più domande ok 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 perfetto io nel frattempo ho condiviso il link del terzo appuntamento vedrete in alto potete selezionare la data di oggi e la data del prossimo webinar quindi selezionate la data del prossimo webinar e iscrivetevi sicuramente non vi chiede l'iscrizione è molto più veloce visto che siete comunque già iscritti in ogni caso riceverete via mail l'invito e se ci seguirete sui nostri canali social troverete sempre i nostri post condivido anche il nostro gruppo facebook che è dedicato a programmatori informatici quindi ve lo condivido quindi richiedete l'iscrizione saremo molto felici di avervi nel gruppo detto questo Ugo noi ci vediamo fra due settimane sì il 14 giusto il 14 sì quindi auguro una buona serata a tutti ringrazio tutti ringrazio Ugo per questa per questa lezione ci vediamo giovedì prossimo noi arrivederci grazie Maria Lucia grazie a tutti buona serata alla prossima ciao ciao ciao